Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questa giornata conclusiva del Monte Carlo Masters of Volleyball, sesta edizione. Anzitutto dobbiamo cominciare da alcuni ringraziamenti che sono molto importanti perché le persone e le associazioni e gli enti che andremo a ringraziare adesso sono quelli che ci hanno consentito di essere qui oggi. Partiamo anzitutto dal ringraziamento ufficiale alla Municipalità di Montecarlo, di Monaco, nella persona del sindaco Giorman San che non è potuto essere presente ma che ha mandato un rappresentante, un assessore del comune, la signora Flasher che poi prenderà la parola per conto del comune. Voglio ringraziare tutti gli assessori, anche Jacques Pastor e gli altri assessori che ci hanno aiutato nella preparazione di questo evento, non solo qui all'hotel ma anche dandoci la possibilità oggi pomeriggio di essere in un posto meraviglioso bucolico con 300 piante di olive di cui alcune secolari che la Municipalità di Montecarlo ha lasciato in mezzo ai grattacieli, in mezzo a uno dei posti più ricchi del mondo, ha lasciato a memoria di quello che è il loro legame con la cultura dell'olivo, questo giardino fantastico e lo vedrete oggi pomeriggio. Poi dobbiamo ringraziare alcune aziende che ci hanno aiutato a essere qua oggi e che sono alcune delle aziende che sono tra i migliori produttori al mondo di frantoi oleari e sono la Moritem della provincia di Firenze, la Clemente Industries di Matera e la Menduni SPA di Bari. Inoltre abbiamo anche un altro sponsor che dall'Africa ci ha aiutato, un importatore di cibi di alta qualità che è Bignasa Food dal Kenya ci ha aiutato e sostenuto ad essere qua oggi e a poter dare questi premi, consegnare questi premi a questi fantastici oli da tutto il mondo. Poi dobbiamo ringraziare alcune associazioni che per la collaborazione e gli accordi che abbiamo stretto con loro per poter di nuovo aumentare il network e quindi aumentare la divulgazione, la conoscenza di questo evento e quindi aumentare anche i partecipanti da più paesi del mondo. Anzitutto dobbiamo ringraziare l'Associazione dei Paesi Bandiera Arancione, il cui sindaco, il cui presidente è Fulvio Gazzola che arriverà tra pochissimo in sala e l'Associazione dei Siti Storici Grimaldi di cui anche Fulvio Gazzola è presidente per la parte italiana e poi dobbiamo ringraziare il consorso di tutela dell'IGP Toscano con cui abbiamo quest'anno per la prima volta stretto un accordo di collaborazione per la divulgazione del concorso e l'Associazione Cnoi che da alcuni anni ci aiuta nell'organizzazione di questo concorso internazionale. Vorrei dare adesso la parola al rappresentante, alla rappresentante del comune di Monaco, la signora Frecher e così può che parlerà in francese ma credo che tutti potranno capire. Grazie Aldo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Monaco e la sola cosa che posso dire in italiano. On è veramente très heureux di di ricevere qui a Monaco. La mairie ha molto partecipato a questo tipo di associazione che permet di scoprire molti cose, che multipli il numero di rifiorensi d'huile d'oliva e felicitazioni a l'organizzazione perché vedo che c'è molto più di botti d'huile che l'anno scorso e molto più di pays. Grazie a tutti. Allora adesso possiamo parlare del principe di questa giornata, sua maestà all'olio extravergine di oliva e abbiamo tre relatori in sala che ci parleranno di tre argomenti di grande interesse per quanto riguarda il mondo dell'olio, tre aspetti diversi che comunque credo a tutti i professionisti e non che sono appassionati di olio possano interessare. Cominciamo con il primo dei relatori che è Aleandro Tanelli direttamente dall'Università di Firenze ci viene a parlare di olivicultura tra passato e futuro, evoluzione dei modelli culturali. Ci racconterà dove eravamo ma soprattutto dove stiamo andando con quello che è la produzione di olio d'oliva in questo nuovo millennio. Prego Aleandro se vuoi prendere il palco. Grazie a tutti, buongiorno innanzitutto grazie dell'invito. Come appena detto il dottor Mazzini io vi parlerò di aspetti tecnici, però per parlare di olio veramente bisogna parlare su tanti modi e su tante come dire visioni. Oggi vi terrò con i piedi per terra, vi parlerò dell'olivo, vi parlerò di quello che ho vissuto, del mio lavoro che ho scelto di stare accanto a questa bellissima pianta, non solo nell'ambito della ricerca ma anche quella che è una tradizione di famiglia e voglio dire così anche per rompere il ghiaccio che l'olivo era la cosa più importante della mia famiglia che erano agricoltori e che mio nonno che era dell'ottocento mi aveva insegnato che questo olivo rispetto ad altre coltivazioni non si poteva cambiare, non c'erano come dire delle soluzioni come è avvenuto per la viticoltura, come è avvenuto per altre produzioni perché era una pianta difficile, era una pianta che non si poteva tra virgolette domesticare e applicare delle soluzioni nuove. Ebbene io in questa generazione mi trovo ad occuparmi proprio di innovazioni, l'olio di oliva lo vedo con delle grandissime potenzialità, ci sono dei limiti, io vorrei oggi quindi fare una fotografia di quello che è l'innovazione, alcune di queste dove stanno andando e vedere se ci sono anche delle soluzioni intermedie che ciascuna realtà territoriale può utilizzare. Non esiste un modello solo, ci sono tante olivicolture con tanti tipi di prodotti. Ecco, io volevo con queste due immagini proprio mettere a confronto, se possiamo via via scelere. Ecco, un'altra cosa, quello che dicevamo prima, l'olio di oliva non è più nel bacino del Mediterraneo dove è nato, è diventato un prodotto globale, mi capita di ricevere degli interessi da parte dei nuovi produttori, nei quali la prima cosa dicono non come si coltiva l'olivo ma è vero che l'olivo è l'olio che fa bene. Perché è così importante? Quindi saperlo anche spiegare, comunicare ai relatori che mi seguiranno, penso lo sapranno farlo in maniera adeguata, è l'altro elemento importante per ridare dignità a questo prodotto. Ritorniamo alle coltivazioni. A che punto siamo? Volevo partire da una considerazione. Questo era il primo convegno mondiale di olivicoltura. Era il professor Alessandro Morettini, fondatore nel dipartimento nel quale lavoro e alla fine la mezzadria ci diceva una cosa, questo olivo bisognava trovare dei sistemi per rinnovarlo. Uno di questi poteva essere una coltivazione intensiva o perlomeno più razionale. Ci furono diversi tentativi che non hanno mai portato però ad una olivicoltura nuova. Noi stiamo lavorando ancora con un sistema che è molto antico e parallelamente esiste una richiesta di mercato piuttosto ampia che vuole un prodotto di qualità, lo vuole in una certa maniera e però abbiamo pochi strumenti per poterlo produrre. Forse c'è anche un video che può partire da base. Si è perso qualcosa? Comunque ve lo spiego. Noi ci troviamo con una olivicoltura ancora legata alle piante secolari ed una nuova, nuovissima olivicoltura altamente meccanizzabile che prevede un tipo di coltivazione, un tipo di coltivazione spinta. In realtà qui avreste visto una panoramica di 3.000 ettari, tutti insieme, nell'emisfero sud del mondo, in particolare siamo in Cile, nel quale si fanno degli ottimi oli, si riescono a gestire sia la qualità che la produzione con questi sistemi completamente meccanizzati. Quello che era una sorta di fantascienza rispetto a quello che era abituato nella mia tradizione in cui l'olivo bisognava potarlo, bisognava raccoglierlo a mano e non c'erano queste soluzioni. Bene, ora entrerò nel dettaglio di questi sistemi di coltivazione per riprendere la situazione. Noi stiamo lavorando, io vengo da una regione, la Toscana, fatta di muretti a secco, fatta di una grande identità forse sull'olio, però abbiamo una produzione sufficiente, abbiamo delle difficoltà, come dicevo, e anche altre tutte le regioni che fanno parte dell'apennino centrale, in cui questo tipo di coltivazione, uno dei maggiori costi è la raccolta. Queste analisi non dobbiamo vederli solamente in termini di costi, dobbiamo anche vederli che la raccolta, cercherò di spiegare, è molto legata alla qualità. Noi stiamo lavorando con il frutto, noi abbiamo la necessità di portare dei prodotti perfetti in frantoio e quei sistemi discontinui di, come dire, le olive raccolte a mano con tutta una serie di complicazioni non sempre sono legate all'alta qualità, come invece richiede il mercato. Oggi, nel corso di 10-15 anni, si sono sviluppati questi sistemi di raccolta. Abbiamo, dal punto di vista tecnico, tre opportunità. Degli acevolatori, abbiamo degli scotitori, abbiamo dei sistemi di pettini su piante molto grandi, abbiamo un sistema, l'ultimo, che sembra il più interessante. Cioè, tutta la nuova agricoltura sta andando sull'ultimo sistema. Ora mi faccio anche una domanda, cioè, è veramente quello il sistema migliore per ridurre costi e per avere la qualità e quali sono i limiti? Qualche tempo fa, con il mio direttore, abbiamo fatto un progetto. Nel 2009 abbiamo messo a confronto i sistemi di raccolta per capire quanto erano efficaci. E questi sono dei dati medi. Vedete che un sistema di raccolta, cioè quello di quel periodo cruciale in cui le olive vanno raccolte in quel periodo lì per fare l'olio buono, con sistemi tradizionali noi abbiamo un coefficiente, calcolato, rapportato ad uno, con gli altri sistemi di meccanizzazione arriviamo quasi a 200 volte. E quindi si aprono delle opportunità per questo tipo di impianto. Però, se si intraprende quella strada, dobbiamo sapere anche quali sono i limiti. Mi soffermo su questa slide perché, secondo me, io vengo dal settore enologico e quando si parla di vino si parla di uva buona, si parla di una gestione del vigneto, si parla poi anche delle tecniche di estrazione, che in questo caso sono la fermentazione e tutto l'affinamento. Qua invece abbiamo un periodo molto preciso, se vogliamo fare l'altissima qualità, nel quale noi dobbiamo conoscere la maturazione di questo frutto. Ed un frutto, anche quando viene staccato dalla pianta, continua il suo metabolismo, non è un seme. Noi stiamo parlando di un frutto che appena raccolto la pianta, a seconda del suo corredo enzimatico, delle condizioni ambientali, delle tutte quelle che sono le condizioni produttive, inizia a fermentare, si può deteriorare, eccetera. Ecco perché è importante conoscere la resa in olio, come si faceva un tempo, ma anche il corredo dei polifenoli e la degradazione di questi, perché quelli poi ci vanno a dare la qualità dell'olio. E questo significa, tradotto in termini tecnici, che noi dobbiamo raccogliere l'olive in quella finestra giusta. Non possiamo continuare a far qualità laddove abbiamo degli olivetti promiscui, nelle quali alcune varietà maturano, faccio per dire, all'inizio, alla fine di ottobre, e l'altro, il periodo ottimale, a novembre, perché noi non riusciamo poi a gestirle e andare incontro a queste cose. Per cui, se noi dobbiamo raccogliere in quel periodo, abbiamo bisogno di riorganizzare questi sistemi produttivi con degli impianti specializzati, basati su un modello agronomico. Non è più il sistema della pianta che si adatta al territorio, ma è la pianta che si adatta, in questo caso, al sistema di raccolta. Vediamo se con i tempi lo riesco. Bene. Voglio parlarvi anche un po' di storia, un po' di quello che ho vissuto da piccolo. Io ero piccolo, ero un ragazzino. Mio babbo mi portava a vedere questi impianti, che erano realizzati vicino a Firenze, nei quali doveva venire fuori la grande rivoluzione dell'olivo. Si dovevano raccogliere le olive come si raccoglieva il grano. A quei tempi non si parlava neanche di vendermiatrici per la vite. Siamo negli anni Sessanta, quelli arrivavano dopo, tra l'altro anche dalla Francia, Vectour France, eccetera, che hanno rivoluzionato il modo di fare vino. Questi sistemi prevedevano la coltivazione dell'olivo a palmetta, a filare le stesse impostazioni della frutticultura di quegli anni. Ci fu un grande entusiasmo. Io mi ricordo tutti gli anni andavamo a vedere questi impianti e sembrava aver trovato la soluzione, ripeto, negli anni Sessanta anche per l'olivicoltura. Furono dati anche dei finanziamenti, ne furono ministeriali, furono fatti dei piani specifici, furono realizzati migliaia di questi entri. Sapete come è andata a finire? È stato un fiasco clamoroso, perché tutta la selezione che abbiamo nelle 1600 varietà di olivo censite, ma probabilmente sono anche molte di più di quelle che abbiamo, sono varietà addomesticate dall'uomo per stare in un ambiente rustico. Quindi sono piante grandi, entrano in produzione tardi e non si adattano alla coltivazione intensiva. Nella frutticultura ci siamo arrivati a fare una cultura intensiva laddove abbiamo delle cultivar onnanizzanti, dwarf, oppure abbiamo trovato un portinnesto. Nell'olivo invece no. L'olivo che vedete, che avete visto prima in quei filari, è perché il comportamento di alcuni genotipi ha una caratteristica compatta che può stare, che diciamo riesce a sopportare bene la competizione tra piante e un'altra. Ma sono pochissime, si contano sulle dita di una mano e questo è il limite degli impianti di cui vi dicevo prima. Pensate addirittura in Tunisia si pensava di realizzare, anche in quegli anni c'era tutto questo entusiasmo sulla meccanizzazione e si pensava addirittura, sembrava fantascienza, cioè siamo nei periodi in cui l'uomo andava sulla luna, non c'erano limiti, si pensava di utilizzare questo tipo di macchie. Che rimasero disegni in un cassetto ritrovato in un vecchio archivio. Ogni tanto qualcuno ci ha riprovato, ci sono state delle tentativi di riadattare quelle piante che erano grandi e che non riuscivamo a tenerle piccole perché era la loro fisiologia con delle macchine intermedie, comunque delle macchine scavallatrici. Qui siamo negli anni 80. Queste macchine rimasero i prototipi, non funzionavano bene e quindi anche in questo caso furono abbandonate. Finché cosa succede? 15, circa 15, 20 anni fa le stesse macchine che vengono usate per la raccolta dell'uva, le stesse senza alcuna modifica, adesso con qualche piccolo aggiustamento, vengono utilizzate su quelle 3-4 cultivar che sono compatibili con l'alta densità. Questo consente di abbassare i costi di produzione, consente di fare degli impianti tecnologici. Si abbandona l'olivo tradizionale come pianta rustica ma si arriva a qualcosa di altamente produttivo. La produttività in questo caso inizialmente c'è stata una diffidenza in questi impianti che non funzionano, non può essere che sia così facile coltivare l'olivo e fare anche qualità. In realtà questi impianti, posso dirvi che dopo, a questo punto sono 25 anni, abbiamo più volte riguardato anche quelli più antichi, si comportano ancora bene, se riusciamo a potarli, se riusciamo a mantenere delle cure culturali e sono perfettamente funzionanti. Cioè diciamo hanno fatto il loro lavoro. In questo caso cosa si riesce? Una persona riesce a raccogliere circa 600-500 quintali di olive che possono essere frante in tempi brevissimi nei frantori. È l'unico modello? La domanda me la rifaccio. Se si accetta questo tipo di olivicoltura, dobbiamo prendere tutto il pacchetto intero. Non possiamo prendere un pezzetto e applicarlo in maniera senza sapere quali sono i libri. Se si adotta questo tipo di soluzione per l'olivicoltura, dobbiamo avere un numero limitato di varietà, dobbiamo avere tanta acqua, perché noi andiamo a utilizzare delle varietà nanizzanti e quindi anche con un impatto sull'ambiente maggiore, perché sapete bene che una varietà nanizzante è poco competitiva, cioè l'apparato radicale è leggero, rimane superficiale, scusate, e l'efficienza di tutto l'utilizzo dell'acqua, almeno avere dei vaccini importanti, bisogna aiutare questa pianta nella sua crescita in quel tipo di dimensione. Dobbiamo utilizzare pochissime varietà. Guardate la foto, questa più piccola, quella io credo che 20 anni fa, quando vidi una piantina che aveva neanche un anno, 15 mesi, e riusciva già a fiorire, rispetto a tutto quello che avevamo letto e studiato in arboricoltura, nel campo dell'olivo, era qualcosa di innovativo. Cioè è un carattere, un'espressione genetica che non è quasi naturale, perché, ritorno sempre a citare mio nonno, oppure un'elivicoltura del passato, prima di 5-8 anni l'olivo non fiorisce, non si prendono i fiori. In questo caso invece abbiamo una risposta di induzione a fiore velocissima. Questo cosa significa? Che alcune cultiva possono essere produttive da subito e si adattano per quei sistemi. sono poche e quello è il limite principale. Però qual è il lavoro che mi vede impegnato quasi a tempo pieno? Cercare di trasferire quei caratteri delle cultiva tradizionali, che hanno anche una qualità intrinseca, con i caratteri della compattezza, non tanto del poco vigore, ma della compattezza per poterle migliorare, cioè poterle gestire, scusate, con più facilità con una meccanizzazione e poi portare dei prodotti molto velocemente alla trasformazione. Le prove sono... mi viene da dire che nel settore olivicolo il focus è questo, cioè quali sono le varietà che si adattano e qual è la qualità di questi oli per poterla ulteriormente migliorare in tante parti del mondo. L'interesse non si ripiantano più le 200, le 150 piante ad ettaro, ma si va su sistemi di coltivazione meccanizzabile. Una delle attività, e in questo caso nella mia regione dove lavoro, è stata capire. In Toscana abbiamo una varietà che da sola fa il 55% di tutto l'olio, ed è la varietà Frantoio. Si può dire che l'identità dell'olio toscano è proprio da questa varietà, che non è solo la Toscana, ma abbiamo Bari come Cima di Bari, abbiamo più o meno una cucina simile che è in Liguria, abbiamo sul lago di Garda una casa Liva e altre. Quindi c'è anche omonimie in queste. Però è quella. E abbiamo anche un'altra serie di varietà, oltre a Leccino Frantoio, ne abbiamo un'altra serie molto numerosa che sono circa 50 varietà. Recentemente ne abbiamo trovate altre 15 e volevamo capire quali di queste varietà hanno quei caratteri che si comportano da intensivo. Vi mostro brevemente questa prova fatta dal, ormai cos'era, dal 2010 circa, la produzione di un impianto, questo ritengo sia stato il primo impianto a filare, raccolto e completamente meccanizzabile, con cultivar che non erano le cultivar internazionali, quindi con poca identità, non ho detto qualità, con poca identità per un territorio della Toscana. Ma alcune di queste, come vedete, hanno una certa adattabilità al sistema. Se poniamo in confronto l'erbechina, che è stata la capostipite di questo tipo di impianti coltivati e meccanizzabili, abbiamo un sistema dove viene utilizzato il correggiolo, un'altra varietà tipica Toscana, dell'Appennino, dei contrafforti, della zona dove regge più a freddo, che però non arriva a livello di convenienza economica. Mentre un Maurino, un Leccio del Corno, abbiamo produzione di 60-70 quintali, una media produttiva, che ci fa intravedere delle possibilità di applicazione, soprattutto sull'alta qualità che si riesce a ottenere portando la raccolta in pochissime ore, ma neanche mezz'ora, si arriva alla frangitura. E questo è un elemento importante per la qualità. Allora, io vi ho fatto fino adesso quella che era la situazione fino a due anni fa. Quindi mi rifaccio un'altra domanda. Siamo sicuri di dover modificare tutto il nostro sistema produttivo limitandoci a quella straordinaria varietà e ricchezza di varietà che ogni paese che si affaccia sul Mediterraneo ha, oppure dobbiamo andare solo per quella strada. La mercantizzazione fa tante evoluzioni. Oggi non ho nessuna pretesa di dirvi quella che sarà l'olivicoltura del futuro, perché è un work in progress. Ci sono e ci saranno delle evoluzioni sempre anche intermedie, perfettibili. Guardate questa nuova macchina. Ripeto, questa è una macchina che ha due anni. Dovrebbe esserci un video, quello in basso a sinistra. Prima vi ho detto, le vendemmiatrici lavorano da 60 centimetri fino a 2,50 m. È una cosa innaturale per l'olivico. Questa macchina riesce a raccogliere fino a 4,80 m in parete, ma soprattutto ha un'escursione dei sistemi di raccolta di circa un metro nel quale si può utilizzare anche forme di allevamento tradizionali, quindi ritornare ad utilizzare anche quelle cultivar vigorose, purché allevate che abbiano un sesto lineare e razionale a parete e fare degli oli di grandissima qualità. Perché questa è una macchina che da due operatori in un'ora riesce a raccogliere un ettaro. E credetemi, la qualità è ottima, perché il sistema di raccolta non è fatto apposta per non avere, lavorare in modo tangenziale sull'oliva, quindi non ammaccarla. C'è un naso trasportatore tutto ammortizzato, c'è un defogliatore, quindi le olive non hanno neanche bisogno di passare alla lavatrice del frantoio, dove spesso le olive vengono rinquinate da altre attività microbiche e si riescono a fare degli ottimi oli. Di queste macchine ce ne sono pochissime, però a mio modo di vedere questa è una grande opportunità per fare degli oli in modo razionale, riabbassando i costi di produzione e mantenendo tutta quella variabilità che vedete lì in quelle bottiglie che oggi ci accompagnano, senza doverle abbandonare. Io credo, non lo so, sono degli spunti quello che volevo dirvi. Ci sono delle opportunità. L'olio nel mondo manca, l'olio è un prodotto quello di qualità, per fortuna, che viene sempre più ricercato e ci sono dei fenomeni nuovi. Oggi ad essere qua a parlare di olio, anche questa è una grande novità. Avremmo parlato di vino vent'anni fa, essere qui a parlare di qualità organolettiche, di proprietà nutrizionali, di avere tutta questa ricchezza di sfumatura e per la prima volta anche la ristorazione, l'altra ristorazione sta scoprendo questo prodotto. Ecco, cogliamo tutti insieme perché questo è un settore che rischia, chi è olivicoltore sa con quanto sacrificio facciamo queste cose e dobbiamo farlo tutti insieme. Un'ultima cosa, avete visto prima quel grafico dove la raccolta era 50% dei costi, sarà il 45%, potrebbe essere sì. L'altro costo più grande, se noi abbiamo risolto la raccolta, qual è? Rimane a votatura, che richiede personale, il testo unico sulla sicurezza in Italia non prevede che possiamo votare andando sulle scale, è vietato. Quindi già questo è un limite. Allora, come si potrebbe fare negli olivetti a parete? Guardate questa macchina. Quando noi, esistono già delle barre di potatura che tagliano in modo indiscriminato sulla parete. Sappiamo anche che l'olivo è una pianta sempre verde, non è come la vite, basta lasciare una gemma, si riforma il tralcio e quindi abbiamo tutta la produzione dell'anno precedente. Se noi questo anno, nel 2022, non abbiamo lasciato i rami, non faremo crescere in modo adeguato i rami che porteranno i fiori nel 2023, qualcosa non va. E se noi andiamo a tagliare quelli lì, ci perdiamo la produzione. L'olivo è fatto così. Quindi allora cos'è che possiamo fare per migliorarla? Abbiamo provato a fare un'altra macchina. sulle barre di taglio applicando, magari se riusciamo a far partire anche in questo caso il video in basso a sinistra, con un sistema selettivo. Cioè il problema di questa barra di taglio è che taglia sia i rami buoni che quelli vecchi che sono esauriti. Allora, come si fa a poter salvare una parte di questa vegetazione? Potrebbe essere su questo riquadro? Allora, comunque il concetto è molto semplice. Abbiamo cercato di mettere questo sistema selettivo attraverso un flusso di aria. Applicando un flusso di aria a questa barra di taglio, durante l'esercizio dei dischi, i rametti, quelli più flessibili, guarda caso, quelli che porteranno la produzione dell'anno successivo, vengono rimandati indietro, vengono tagliati solo quelli rigidi, quindi quelli vecchi e quelli più piccoli ritornano indietro. Questi sono i risultati che ci hanno permesso di dimostrare che questo sistema triplica l'efficienza tra utilizzare il sistema di potatura selettiva rispetto all'altro e anche questa mi verrebbe da dire che ha un'opportunità, magari per chi ha un'azienda piccola, non di acquistare la macchina ma di ricorrere a un contoterzismo, come pure l'altra macchina che potrebbe essere pesata. Ecco, ci sono delle opportunità da un punto di vista tecnico che si può fare qualità razionalizzando questi impianti. Non lo so se sono riuscito, come dire a questo punto, a farvi capire quello che potrebbero essere delle ulteriori novità. Vorrei parlarvi di un'altra cosa che la devo dire, cioè prima di abbandonarvi. Esiste un problema enorme sull'olivo, che è un problema derivato da un batterio. Non è una soluzione facile. Non ci sono, forse mal gestito, cioè tutto quello, è qualcosa che preoccupa molto perché questa è una pianta molto vulnerabile. Quindi tra tutta quella selezione genetica che è stata fatta fino adesso, noi dobbiamo trovare quella che è l'espressione genica di una tolleranza a questo benedetto axilella fastidioso. Quindi dobbiamo nuovamente rimetterci da fare per trovare una soluzione all'olivicoltura. Però dobbiamo farla tutti insieme, con la comunicazione, con la valorizzazione, conoscendo gli oli, cosa dire? Il clima, come lo possiamo combattere, questo aumento della temperatura? Questo è un problema, anche questo è un problema grave. Questa merita una risposta globale, perché non può essere il singolo territorio. Negli ultimi anni abbiamo misurato in Toscana, ci accorgevamo delle cose strane. Noi arriviamo in frantoio che le olive, con quegli indici di maturazione, non ci tornavano più. Abbiamo già raggiunto il culmine dell'inolizione, poi i fenoli cominciavano ad andare, gli enzimi non facevano più le sue temperature, e i frantoi c'è bisogno di raffreddarli. Nelle vecchie stampe dei frantoi c'era sempre una caldaia, si scaldava perché si doveva stare l'olio. Oggi nei frantoi ci vuole il gruppo frigo, perché se noi superiamo i 27 gradi di temperatura, mi insegnate voi, che abbiamo perso la qualità. Questo è un problema nuovo e lo sarà sempre di più. I dati, abbiamo anche nel nostro dipartimento una stazione di agrometeorologia, i quali in anticipo, su questi modelli previsionali, guardate, i prossimi anni non si torna indietro, è un volano ormai. Misurando dagli anni 60 ad oggi le temperature medie estive, non la media globale dello 0,6 gradi che riguarda tutti, ma l'olivo vegeta in un periodo estivo, nel quale si accresce, matura, ed è quel periodo che ci interessa per la produzione d'oliva. In quel periodo lì noi abbiamo dal 2000, dal 1985, i dati erano fino al 2020, noi abbiamo 1,7 gradi in più medi di temperatura, che non sono quegli 0,6 mondiali. Significa che in alcune zone del centro Italia noi abbiamo il clima come insulare della Sicilia o della Calabria in quel periodo di maturazione, rispetto a 30 anni fa. Se andiamo a guardarlo dagli anni 60, noi abbiamo 2,4 gradi in più medi, perché poi le punte sono sempre maggiori, che ci portano ad avere una maturazione sempre anticipata. E quindi noi dobbiamo capire quelle benedette varietà che prima le raccoglievamo a novembre, adesso invece a ottobre, in che periodo climatico le raccoglieremo, sappiamo bene che le temperature molto alte abbassano gli acidi monoissaturi, quindi questo era quasi un imprinting territoriale, quindi dobbiamo scegliere anche quelle varietà ad alto tenore di oleico dei monoissaturi, e tutta una serie di cose che dobbiamo rincorrere a questo. Non sarà facile, l'olivo oggi si coltiva in Piemonte, lo si coltiva in Bretagna, mi hanno detto, in altre parti del mondo, ieri l'altro mi rimandavano su Whatsapp un gruppo di indiani che gli avevano mandato gli olivi, che gli ha fruttificato nella zona dell'Uttar Pradesh finalmente, e tutta una serie di cose che dovremmo rivedere questa geolocalizzazione dell'olivo. Sicuramente si sposterà alle latitudini più estreme, sia nell'emisfero sud che nell'emisfero nord. E questo ha in noi. Un'altra domanda che ho notato, ora non voglio farla lunga, però la maturazione è cambiata anche con queste temperature, perché si ha da tre giorni, quattro giorni, una variazione della pigmentazione del... Assolutamente. Però non è, scusami, si ha praticamente una pigmentazione della parte esterna dell'olivo, ma dentro rimane immatura, quindi non c'è una maturazione scalare come era un tempo, e quindi questo porta anche, si riflette anche sulla qualità. Assolutamente, assolutamente. Sei d'accordo? Assolutamente. Questo l'abbiamo verificato andando a misurare la fotosintesi sulla pianta. Nell'attività del pomeriggio, dove fa molto caldo, la pianta chiude gli stomi, non fa fotosintesi, si blocca, nonostante sia una pianta xerofila, ma lavora in un periodo buono dalla mattina, quando è un periodo dove le temperature sono ancora mediamente fresche, e poi per riprendere la sera. Nel passato, quando non c'erano quei periodi di maturazione così, cioè con queste temperature, l'olivo lavorava tutta la giornata, perché eravamo in un periodo mite, la pianta non superava quelle temperature, aveva un decorso più naturale. Sapete di quanto aumenta la maturazione? Un altro lavoro che avevamo fatto, vado a memoria, avevamo preso per cinque anni la maturazione media degli oliveti, ma questo negli anni 90, quindi sarebbe ancora più interessante rifarlo adesso. E abbiamo trovato un modello matematico che mostrava la correlazione tra 0,5 gradi in più o meno, medi durante la periodo della maturazione che va dall'endurimento del seme fino alla raccolta, ovvero dalla fine di luglio fino alla metà novembre. Ogni anno una differenza di mezzo grado in più o meno portava una settimana, sei, sette giorni di anticipo sulla maturazione. Alizia, prima cosa ho detto, noi adesso siamo a un grado virgola sette, sette per tre, ventuno, siamo quasi a un mese di anticipo. Infatti tra un po' si comincerà a frangere a settembre. No. Non saprei, vabbè, con questo... È un problema importante. È un problema importante. Però piantiamo olivi perché gli olivi ci aiutano. Piantamone tanti. E sviluppiamo nuove tecniche che abbassano i costi, perché altrimenti non siamo neanche competitivi. Insomma, c'è un problema. Ci proviamo. Bene, grazie. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie davvero, Leandro. Interessantissimo. Perché vedere dove sta andando l'olivicoltura è molto importante. Gli altri paesi hanno investito molto di più dell'Italia in queste nuove tecnologie, queste modalità di coltivazione e di raccolta. Noi dobbiamo cercare di contrastare con le armi che abbiamo a disposizione questo tipo di trend. Contrastarlo non nel senso di bloccarlo, contrastarlo nel senso di stare sui mercati in modo diverso e alternativo rispetto a chi sta riducendo i costi in maniera iperbolica della produzione. Aleandro ci ha tenuto con i piedi per terra. Adesso diamo la parola al dottor Pino Cipolla che invece credo che ci farà volare in giro per il mondo. Grazie. Grazie Pino di essere di nuovo qui con noi. Grazie. E il palco. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito ovviamente. Non vi proietterò nulla. Ho volutamente impostato il discorso che vi sto per fare in tre fasi. parlando prima di tutto dello scenario generale poi della situazione attuale della commercializzazione dell'olio di alta qualità e poi traendo morale da questi due capitoli il terzo capitolo è sul futuro dell'olio di alta qualità futuro prossimo ventuno. I dati di fondo sono che quando io ho cominciato a lavorare nell'olio sono 50 anni che me ne occupo c'erano 3 miliardi di persone sulla faccia della terra adesso siamo a 7 miliardi e 300 milioni con la certezza di raggiungere 10 miliardi nel 2050 tanto per dare degli esempi la Nigeria che ha 250 milioni di abitanti raggiungerà i 500 milioni di abitanti nel 2050 e questo apre la porta ad una mobilità chiamiamola così di comportamenti che il famoso discorso del villaggio globale in cui l'uomo e la terra e tutti noi gli esseri umani si stanno trasformando sarà sempre di più un villaggio globale quindi dovremo tener conto di tutte queste evoluzioni quando io ho cominciato a lavorare si consumavano nel mondo 800 mila tonnellate di olio d'oliva nella maggior parte dei casi nei casi erano olio di sansa olio lampante chiamato extravergine e cose del genere adesso si consumano 3 milioni e 200 mila tonnellate largamente di extravergine e all'interno dell'olio extravergine cresce in una maniera progressiva costante la percentuale la quota dell'olio di alta qualità quindi di questo possiamo parlare più approfonditamente però per commercializzare vedere il futuro dell'olio di alta qualità volevo rifarmi a qualche esempio del passato i latini dicevano historia magister vite basta studiare la storia per capire il futuro che ci aspetta e nella storia io dico che le caratteristiche che servono per avere successo in una come dire missione come può essere quella di convertire sulla strada della qualità i consumatori di olio extravergine nel mondo oltre a metterci il cuore a metterci la passione a metterci tutto quello che un imprenditore del settore sa di dover mettere ci vogliono ancora ci vogliono ancora dei riferimenti proprio culturali che voglio dirvi in tre parole tra i grandi personaggi italiani della storia noi tutti conosciamo Leonardo da Vinci conosciamo Cristoforo Colombo conosciamo Marco Polo addirittura che fu il primo nel 1200 a andare a esplorare i nuovi mercati perché questa era la sua missione bene queste persone cosa avevano in comune avevano in comune il desiderio di inventare qualcosa di nuovo e l'ingegno italico di cui si è parlato per secoli si è concretizzato con queste persone con queste figure ora io vi voglio dire i nomi di cinque persone che secondo me rappresentano in questo momento Leonardo da Vinci della nostra attuale dei nostri tempi di oggi Steve Jobs Bill Gates Elon Musk Jeff Moses e Mark Zuckerberg sono gli inventori di Apple Microsoft Elon Musk quello della Tesla delle macchine elettriche Jeff Moses e Amazon e Mark Zuckerberg ha inventato Facebook e tutti i figli di Facebook queste cinque persone cosa hanno in comune sono americani guarda caso le cinque persone più influenti negli ultimi vent'anni del pianeta sono americani quindi a questo punto non può essere un caso come mai la cultura americana esprime delle persone così innovative e delle persone così come posso dire fantasiose da creare dallo zero delle realtà inimmaginabili leggevo ieri che Amazon ha comprato una catena di supermercati tra l'altro che io conosco molto bene che si chiama Whole Foods in America e l'ha comprata per 9 miliardi di dollari e uno dice ma cosa se ne fa Amazon di una catena di supermercati alla fine è già lei il più grande retailer del mondo beh io non lo so che cosa se ne fa ma probabilmente c'è peso sì a che intenzioni ha dove vuole andare quindi vedete che ci sono dei cambiamenti di scenario così evidenti e così forti che ci dobbiamo porre il nostro piccolo problema che è la nostra piccola bottiglia va collocato in un contesto così ampio e così mondiale così planetario oserei dire che bisogna chiedersi e veramente che rapporti di forza avremo in futuro sia pure in 10 miliardi di persone sia chiaro con delle realtà così gigantesche che dominano il mercato e ne determinano la domanda e l'offerta steve jobs diceva se ve lo ricordate inventore di apple che è morto credo dieci anni fa e la famosa frase stay foolish stay angry siate folli e siate affamati io credo che questo sia un una missione che un ricordo una frase di incitamento che noi dobbiamo ricordare tutti i minuti chi ha una visione deve essere folle e affamato affamato di novità affamato di esplorare il mondo e oggi le aziende che commercializzano un prodotto così elegante così bello come l'olio d'oliva devono superare gli schemi superare i confini ci sono dei test in psicologia che bellissimi che dimostrano se una persona ha degli schemi mentali senza saperlo in base ai quali non riesce a superarli pensate io devo citarmi purtroppo in questo caso ma ho venduto un container di olio d'oliva di alta qualità in Uganda ora se voi andate a vedere le statistiche del consumo di olio d'oliva in Uganda vedete che il consumo complessivo dell'Uganda è 40 tonnellate tutto l'anno l'importazione di olio d'oliva qui uno che ne compra 18 di olio di alta qualità o a un pazzo oppure vuol dire che vede in una canale di commercializzazione un mercato che naturalmente nessun altro vedeva e come l'Uganda posso citare mille esempi di paesi che sono tecnicamente chiamati in via di sviluppo o del terzo mondo che invece aspettano con grande curiosità e con grande interesse l'arrivo di prodotti tra virgolette salutistici perché ricordatevi che la mission dell'olio d'oliva è soprattutto quella l'olio d'oliva fa bene e questo è il concetto che vende diciamo così e come come l'Uganda posso citare la Papua Nuova Guinea la Nouvelle Caledonie la Nuova Caledonia che è ancora più a est dell'Australia cioè cose che ho vissuto io personalmente quindi posso citare fonti nomi date eccetera quindi io dico quando dico siate pazzi siate folli e siate affamati è un incitamento a tutti coloro che fanno tutti questi sacrifici per produrre un olio di alta qualità di non fermarsi agli schemi abituali che ti dicono portamelo a New York lo vendiamo in Giappone lo vendiamo qui lo vendiamo bisogna andare oltre bisogna andare pensare in grande e pensare da pazzi da folli io vi garantisco che la soddisfazione di vedere il proprio prodotto sul lago Vittoria in Uganda piuttosto che appunto in Nuova Caledonia a Numea è una soddisfazione enorme che ripaga tecnicamente di mille sacrifici ma voi mi direte eh ma sì ma per andare a parlare fai presto tu a dire però chi ci va in Uganda chi è che sa quali sono i clienti Nuova Caledonia eccetera giusto ma guarda caso viviamo in un momento in cui l'Unione Europea ha messo a disposizione delle aziende che vogliono esportare al di fuori dell'Unione Europea i propri prodotti alimentari una serie di aiuti che non ci sono mai stati nella storia io ho lavorato con i più grandi imprenditori italiani nel settore dell'olio d'oliva e coi tempi non c'era nessun aiuto di nessun genere se non la valigetta con i campioni e il bignami il De Agostini rosso piccolo che era il nostro Atlante perché non c'era ovviamente Inter non c'era niente i telefoni erano aggettoni quindi andavamo proprio come gatti magri a caccia di topi cercando sulla cosa e dove dove si poteva andare senza alcun aiuto di nessuno adesso invece riceviamo rimborsi fondo perduto finanziamenti a tasso zero pur di fare progetti di internazionalizzazione ma siccome siamo diventati gatti grassi abbiamo perso la fame perché ci accontentiamo quello che si chiama genericamente la comfort zone siamo arrivati in una comfort zone per cui facciamo quel fatturatino che basta che avanza che copre le spese non c'è bisogno di andarsi a scannare e andare a fare l'esploratore eccetera però la storia del mondo dice che le persone che hanno avuto successo sono sempre stati degli arditi avventurieri sono quelli che hanno avuto la visione del futuro e che ovviamente credevano in quello che facevano ma non dico i personaggi famosi di cui vi ho parlato non sono solo quelli ci sono persone che magari nessuno conosce che hanno Brazza da cui la capitale Brazzaville capitale del Congo era un piemontese frate piemontese che è andato a esplorare il Congo e ha aperto allora andavano per convertirli al cristianesimo ovviamente avevano uno scopo però era il primo che andava a suonare i campanelli in un posto lontano e pieno di insidie beh io dico ci vuole coraggio coraggio è una parola che deriva dal latino cor agere agire col cuore e da che mondo è mondo vince sempre chi ci mette il cuore nelle cose che fa aggiungo quindi se il mercato prendiamo facciamo un esempio che il mercato dell'oliva sia una torta voi avete impastato la farina l'uovo le uova il burro insomma tutti gli ingredienti avete preparato la torta e vi accingete a metterla nel forno per cuocerla bene ritagliate una piccola fettina così di quella torta e considerate che quella fettina è la vostra la vostra parte quello che vi spetta poi lo mettete nel forno e nel forno ovviamente la torta si dilata e anche la vostra fettina si dilata questo è l'andamento del mercato il mercato dell'oliva dagli 800.000 tonnellate di 50 anni fa ai 3.200.000 tonnellate di oggi è aumentato è una torta nel forno che continua a lievitare se noi siamo così bravi da prendere delle quote di mercato adesso prima che la torta bruci come posso dire prima che sia troppo cotta solo per il fatto di averle acquisite vivremo di rendita in futuro faremo delle cose vivremo capitalizzando gli sforzi di penetrazione commerciale di sacrifici sui prezzi sulle cose che abbiamo fatto adesso al momento di acquisire questa quota e di entrare quindi io dico mai come in questo momento per gli aiuti che ci sono per la dimensione del mercato che si sta allargando perché paesi assolutamente impensabili se io avessi detto ai miei titolari di 50 anni fa che andavo a vendere l'olio in Uganda mi internavano subito come pazzo da legare ma invece andavamo in Iran andavamo in paesi che allora sembravano esotici e lontani e oggi hanno un consumo di olio d'oliva che prima non avevano che abbiamo diffuso il consumo di olio d'oliva in paesi che non lo conoscevano neanche magari avevano anche gli alberi però le olive le tenevano scusa le alberi le tenevano solo per mangiarsene non per non per esprimerle non avevano nessuna tecnologia niente niente quindi l'esortazione che io faccio anche a tutti anche ai miei studenti fate buttatevi fate gli sforzi possibili immaginabili perché in questo momento c'è questo magic moment che da che io riesco a vedere con molta nitidezza e purtroppo spesso non riesco a trasmetterla questa nitidezza a vedere che c'è un momento magico che non c'è mai stato prima l'attenzione sull'alta qualità perché se noi andiamo a vedere il perché si è verificato questo questo fenomeno questa crescita è dovuto al fatto che quando abbiamo cominciato a parlare di olio d'oliva nel mondo e non tanti secoli fa guardate fino agli anni 70 l'olio d'oliva nel mondo era solo l'olio di oliva cioè la miscela di olio raffinato con olio extravergine perché era figlio del processo di raffinazione l'olio extravergine è cominciato negli anni 80 che sembrano gli 80 ma sono 40 anni fa non è una cifra enorme e l'olio di alta qualità è cominciato da 5-10 anni quindi se io prendo il pantografo e vedo che cosa è successo ogni volta che c'è stato questo cambiamento di comportamento di consumo posso prevedere con facilità che il consumo di oli di alta qualità sarà sempre maggiore in futuro fermo restando alla dimensione della torta anche all'interno della torta la fettina che ci riguarda sarà sempre più grande questo perché perché la valenza per cui i consumatori nel mondo sono stati attratti dall'olio d'oliva è stata la valenza igienico-salutistica cioè l'olio d'oliva fa bene e quindi bisogna usare quello più in generale direi più diciamo il sistema occidentale comporta che le persone abbiano sempre di più in alcuni paesi problemi di sovrappeso e più queste persone queste culture queste civiltà hanno problemi di sovrappeso e più ricorrono al dietologo alla dietologa al nutrizionista e più il nutrizionista gli dice usa da domani l'olio d'oliva e quelli attraversano la strada vanno a scaffare nel supermercato e comprano l'olio d'oliva manco si chiedono che marca di dove eccetera ragionano è un acquisto di impulso in quel momento poi subentra l'informazione e la razionalizzazione allora contano le origini contano le acidità per esempio ci sono alcuni paesi nel mondo che bisogna mettere l'acidità in etichetta in etichetta frontale che è una cosa che non ha senso però intanto i consumatori decidono se è meglio lo 0,5 dello 0,3 o viceversa scusate poi ci sono paesi che non sono neanche italiani tra virgolette come cultura alimentare eppure consumano olio io le devo dire faccio nomi e numeri e cifre il più grande mercato del mondo per l'olio di alta qualità dopo gli Stati Uniti che consumano 350.000 tonnellate di olio è il Brasile che consuma 120.000 tonnellate bene di queste 120.000 tonnellate gli italiani le marche italiane hanno solo il 6% perché il 65% è in mano ai portoghesi il 20% il 22% è in mano agli spagnoli il 7% in mano circa in mano agli argentini e noi abbiamo solo 6% ma è un 6% di altissima qualità cioè il 6% di 120.000 tonnellate fa 7.200.000 litri vuol dire 14 milioni di bottiglie da mezzo litro perché in Brasile si consuma solo bottiglie da mezzo litro 14 milioni di bottiglie da mezzo litro di alta qualità ma non basta tutta la produzione italiana di olio di alta qualità quindi per dire ci sono dei comportamenti di consumo in alcuni paesi che come dire ti spiazzano noi ci siamo ritagliati senza volere l'immagine di portatori sani del virus dell'alta qualità noi sì che sappiamo fare l'olio noi sì che sappiamo e ne godiamo i benefici perché non dimenticate il Brasile è un paese che parla portoghese quindi tutto quello che viene dal Portogallo ha priorità anche dei consumatori è considerato di madre patria diciamo così potrei citare altri esempi il Giappone il Giappone ha consumato 10.000 tonnellate 5.000 tonnellate nel 1995 10.000 nel 2000 15.000 nel 2005 20.000 nel 15.000 nel 2010 30.000 nel 2010 adesso è 45.000 tonnellate i giapponesi consumano sempre di più olio di alta qualità e lo consumano in maniera molto oculata come sono tutti i giapponesi i giapponesi sono come voi sapete una delle una delle civiltà più evolute sulla terra come fatto organizzativo intendo dire e hanno aumentato i loro consumi soprattutto sulla base della della selezione della qualità loro vogliono il meglio del meglio ma non solo nell'olio in tutto quindi oggi ci sono delle catene di supermercati in Giappone che se tu vai a proporgli l'olio diciamo da supermercato come si dice in gergo non ti contestano neanche se ti non ti dicevano neanche perché vogliono soltanto l'olio alta qualità che partecipe ai premi che li abbia vinti che abbia dei riconoscimenti terzi eccetera 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 in un crescendo quasi oserei dire rossiniano di attenzione a queste cose questo coincide con una parola giapponese che occorre sapere che si chiama ikigai la parola fa un po' ridere ma l'ikigai vuol dire far coincidere quello che uno sa fare con quello che uno ama fare in pratica trovare se stessi se ci pensate la ragione della vita e quindi quando uno trova l'ikigai di se stesso e quindi porta alla controparte il prodotto che la controparte si aspetta come in questo caso parlando di olio ecco che realizza se stesso il famoso ikigai di cui parlavamo con Aleandro anche ieri sera quindi è proprio il motore della vita questo il motore della vita è proprio quello di fare le cose che uno sa fare e che ama fare se coincidono queste due cose può andare avanti ed avere successo quindi io non so se ho parlato 5 minuti 20 io non lo so perché vado a braccio se non mi fermate vado ancora avanti quindi mi dici che ok scusate ma lui ha insistito tanto che io facessi come si dice le slide ma io non sono capace di lavorare con le slide scusa devo dire quello che so poco tanto ma insomma devo dire solo questo e lo dico appunto così a corpo gentile come si dice a Roma non è corpo gentile dunque io voglio dire molte altre cose che diciamo contrastano l'opinione degli scemanologi che abbiamo in alcune in alcune categorie che dicono delle cose che non stanno in cielo né in terra io dico semplicemente che i valori delle i grandi intuitori nella storia dell'umanità sono dai tempi degli antichi greci da Socrate in avanti diciamo filosofi dicevano che bisogna lo scopo dell'esistenza è essere felici il famoso eudaimonia di Platone quindi se lo scopo è essere felici dell'esistenza l'ideale combinazione è quella di fare un mestiere che ti piace perché realizzi l'ikigai cioè fai le cose per cui sei vocato ebbene chi fa l'olio di alta qualità è che ci mette l'ingegno l'intuizione eccetera per fare delle belle bottiglie per realizzare l'olio al meglio del meglio è una persona che realizza se stessa che quindi ha diritto alla leudaimonia di Platone realizza anche quella e quindi io dico spingo tutti a fare sempre di meglio e sempre di più con coraggio però con visione un po' folle del mercato perché se effettivamente io lo riconosco che bisogna che bisogna avere una coefficiente di follia nel fare certe cose senza la quale non si riesce ad avere successo e la follia in questo caso molto praticamente dico andiamo ad esplorare le cose nuove Elon Musk teorizza che adesso deve aprire una colonia su Marte perché gli esseri umani tra cento anni saranno così tanti che occorrerà esportare i sistemi di vita e quindi sta organizzando Elon Musk e quello di Tesla per fare la colonia su Marte quindi con i razzi che li portano avanti in 3 quindi turisti spaziali eccetera che a noi tutti noi ci viene da ridere ma questo cosa dice però chi ti ha detto che sia sbagliato quando Steve Jobs ha inventato Apple e il sistema dei microprocessori ha inventato ha superato tutte le nostre conoscenze dell'epoca facendo inventando il computer sostanzialmente e lui diceva io ho un'anima Microsoft non ce l'ha Microsoft in comparazione o come Jeff Bezos ha inventato Amazon ma vi rendete conto Amazon è una cosa globale pazzesca e sta dilagando in tutti i paesi cioè io ho fatto in Kenya in Kenya aperto Amazon in Kenya in Kenya cioè dappertutto arriva con una intensità e con una efficienza logistica impensabile cioè fa migliorare tutto il sistema tutto il sistema della logistica da quando è arrivato Amazon è migliorato perché tutti arrivano fai un ordine due giorni ti arriva e dici cosa vuoi a prezzi bassi e questo è un metodo è un modello da seguire allora dico questo signore che ha avuto questa intuizione così grande l'ha avuta e all'inizio gli avranno detto ma questo è un matto cosa si pensa di fare poi noi italiani diciamo ma no ma dove crede di andare quello lì poi invece questo ci ha preso a pattoni a tutti e ci ha dimostrato il contrario bene io dico nel nostro lavoro nel nostro piccolissimo nel nostro porticello cerchiamo di essere dei Jeff Bezos anche noi cerchiamo di essere innovativi cerchiamo di portare soprattutto a un punto di vista commerciale lo dico perché non basta fare l'olio buono e non basta neanche mettergli l'etichetta bella e non basta neanche produrlo come dire al momento giusto con le certificazioni giuste poi bisogna venderlo e per venderlo bisogna andarne a parlare bisogna andare a suonare i campanelli questo bisogna fare bisogna fare le fiere ragazzi le fiere tanta gente non le fa eppure sono finanziate tutte al 100% dalla regione tutte quindi dico ma perché non le fai sono finanziate udite bene da fondi strutturali cioè fino al 2025 qualunque azienda che voglia fare una fiera all'estero per l'esportazione di prodotti alimentari è finanziata al 100% l'anno prossimo non si sa però si sa fino al 2025 quindi è evidente che bisogna fare uno sforzo anche organizzativo all'interno dell'azienda anche culturale bisogna andare a fare la fiera a Bogotà non bisogna andare a fare la fiera a New York bisogna andare a fare la fiera a Johannesburg bisogna andare a fare la fiera a Phnom Penh bisogna andare a fare a suonare delle delle canzoni su ottave che altri non hanno visitato fino adesso e guardate che c'è una resistenza molto forte a fare questo è facile dire bisogna andare a Bogotà poi non ci va nessuno allora l'organizzatore della fiera di Bogotà non faccio lo dico veramente non è un modo di dire proprio Bogotà c'è stata una fiera finita ieri diceva ma le aziende italiane qui non vengono eppure il mercato colombiano è enorme è latino di origine quindi attento sull'olio d'oliva c'è la più grande catena di supermercati del Sud America che si chiama Exito che è di proprietà dei francesi di Casinò che ha 3200 supermercati e che mi chiede ah ma fate anche l'olio buono e dico no veramente facciamo solo quello ah bravi allora venga a parlarsene se me lo fate col peperoncino sarebbe meglio sono due cose diverse capito cioè però c'è un'attenzione incredibile quindi io mi spolmolo certe volte a dire queste cose non ci sono limitazioni c'è solo un problema di volontà e sai come dice Vittorio Alfieri vogli sempre vogli fortissimamente vogli se voi volete la volontà è il motore più forte di qualunque altra energia compresa quella atomica è solo la volontà che comanda quindi l'obiettivo è chiaro il mercato cresce gli oli di alta qualità crescono all'interno del mercato il segmento di crescita dell'extravergine sono rigidi come consumi attenti l'olio di alta qualità è un segmento rigido vuol dire come con la benzina la benzina se costa 2 euro o 2 euro e 20 tu la compri uguale perché tanto devi andare in giro l'olio di alta qualità è uguale che costi 18 euro prezzo al pubblico 18 euro 19 o 21 chi se lo compra lo compra comunque quindi è rigido in questo senso nel senso che la domanda è una domanda rigida adesso è l'offerta che deve andare là e dire oh ragazzi siamo anche noi e in alcuni paesi non c'è domanda perché non c'è offerta perché se andiamo là a parlarne creiamo la domanda chiaramente con le fiere con la pazienza con la pazienza e con la perseveranza un presidente americano degli anni dieci si chiamava Calvin Coolidge diceva nella vita non conta l'intelligenza il mondo è pieno di geni incompresi nella vita non conta l'istruzione eravamo nel 1910 quindi con un tasso di analfabetismo altissimo nella vita conta solo la determinazione e qui lo ripeto possiamo avere tutte le qualità e tutti i difetti del mondo ma se abbiamo la determinazione del volere una cosa il volley sempre volley fortissimamente volley dal fiero battiamo tutti perché ci aggiungiamo alla determinazione che è fatta da tante persone nel mondo sono determinate ci aggiungiamo anche quel tocco di creatività e di fantasia italica che sono le cose che fanno la differenza noi aggiungiamo se ci mettiamo la determinazione anche l'intelligenza della creatività e riusciamo a vincere io dico sempre che noi italiani non siamo un popolo siamo una collezione di persone per diventare popolo ci vogliono ancora tre generazioni e non siamo capaci a organizzarci siamo geneticamente incapaci ad organizzarci siamo individualisti siamo lupi solitari siamo questo è l'aspetto negativo l'aspetto positivo che questo fatto ci eccita la creatività la fantasia siamo capaci di inventare siamo capaci di esprimere delle creatività che altri popoli sono assolutamente legati ecco quindi che questa cosa che noi non possiamo cambiare la nostra genetica è quella lì però se la uniamo alla determinazione cioè la formazione è determinazione più fantasia più creatività diventiamo imbattibili io quando ho cominciato a lavorare andavo a presentarmi come italiano e mi chiamavano macaroni ancora no cioè soprattutto eravamo io parlo degli Stati Uniti degli anni 70 eri un immigrato che cercava l'olio d'oliva per se stesso perché chi lo consumava erano soltanto gli italiani i greci e quei pochi pochissimi spagnoli immigrati semmai più i portoghesi adesso che ci presentiamo nel mondo come italiani fanno tutti ah italiano ah come per dire meravigliati complimentandoci silenziosamente il fatto di essere italiani quindi vuol dire che in questi 50 anni qualcosa di buono l'abbiamo fatto per essere così gratificati noi italiani eh non in generale proprio come collezione di persone non come poco come collezione e quindi si tratta di andare avanti su questa strada e eh non penso adesso finisco per ripetermi ma comunque insomma bisogna andare avanti e credere in quello che si fa con tutta la passione possibile seguite il vostro cuore e non vi sbagliate mai grazie 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 ma ci ha aperto anche alle possibilità che tutti noi abbiamo dentro di fare cose eccezionali se ci crediamo veramente questo è forse il messaggio ancora più importante grazie davvero e adesso adesso diamo la parola a un carissimo amico che ci ha onorato della sua presenza ho avuto la fortuna di conoscerlo quando abbiamo fatto le scuole medie insieme siamo stati molto amici e io l'ho visto fare la sua prima fotografia a dodici anni se non ricordo male e adesso le sue foto sono famose in tutto il mondo richieste in tutto il mondo vi presento Settimio Benedusi grazie grazie Luca c'è il mio piccolo buongiorno 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 mi sono messo anche due appunti per non scordarmi niente tanto grazie Aldo veramente sono onorato di essere qua è bellissimo ho sentito le parole fino adesso molto interessanti molto utili allora io mi chiamo Settimio Benedusi e di mestiere faccio il fotografo il giornalista insomma mi occupo di comunicazione per Aldo ho avuto questo privilegio di vedere in antiprima le bottiglie e giudicare l'aspetto estetico di queste bottiglie e io sono qua per dirvi che l'aspetto estetico e quindi la comunicazione sono una parte fondamentale dell'aspetto produttivo e poi come abbiamo appena sentito della vendita di questo meraviglioso prodotto che voi fate lo sapete tutti lo sappiamo tutti che la comunicazione come le cose si presentano come si come si come si raccontano è molto importante perché parla proprio anche del contenuto della questione non solo della forma vi voglio raccontare questa piccola storiella che penso possa essere interessante è una storiella di due frati che erano in un convento questi due frati sono in un convento e questi due frati gli piace fumare gli piace fumare e sono un po' disagio nel convento a fumare perché dicono siamo frati nel convento fumare forse non è veramente il massimo e al che distrutti e tormentati meglio tormentati dal senso di colpa decidono un bel giorno di andare dal vescovo per chiedere al vescovo se era opportuno o meno che loro potessero continuare a fumare quindi tutti e due vanno nel vescovo due giorni dopo di ritorno nel vescovo uno è lì tutto mogio triste e l'altro tranquillo beato che fuma beato tranquillo e quello che non fuma va da quello che fuma e dice scusami fammi capire ma tu sei dato al vescovo monsignor Mazzini sì scusa anch'io sono un signor Mazzini a me mi ha detto che non potevo fumare al che quello che fuma chiede a quello che non fuma ma fammi capire tu cosa gli hai detto al monsignore ma io sono al monsignore e gli ho detto scusi sa io a me piace fumare volevo chiedergli monsignore se in convento posso fumare e lui cosa dà risposto eh no fratello il convento è un luogo sacro assolutamente non si può rovinare con una roba volgare e orrenda come la sigaretta quindi perdonami fratello ma tu assolutamente non devi fumare perché scusa a te tu che fumi tu cos'è che gli hai detto al monsignore guarda io sono da un monsignore e gli ho detto caro fratello io amo pregare la preghiera per me è il momento focale della mia vita monastica e anche umana io amo talmente pregare che io prego sempre io prego mentre ovviamente sono in chiesa e ufficio al momento sacro della preghiera ma addirittura prego quando scavo nella terra e faccio il contadino prego quando cucino prego quando faccio i miei bisogni prego anche quando fumo bravo fratello continua così continua così quindi come la stessa identica cosa posta in maniere diverse ha reazioni diverse quindi come la forma compete in maniera indissolubile alla sostanza e se io vi faccio qui ho tutta una mia ma sape come servire dell'acqua ma Aldo scusa e se io ad esempio vi facessi ad esempio grazie Aldo prego se io vi facessi questo questa semplicissima acqua la metto qua dentro o la metto qua dentro quale voi preferireste bere quale pensate che sia l'acqua migliore no? questa guardate che acqua questa è un'acqua con un aroma meraviglioso effettivamente buonissima questa è una roba da autogrill terribile potrebbe essere rubinetto no? quindi anche qua l'aspetto formale ha a che fare con la sostanza delle questioni e io grazie Aldo grazie Aldo in questi ultimi mesi ho approfondito nonostante io sia ligure vivo a Milano da tanti anni ma insomma sono ligure quindi dovrei intendermene di olio ma ho scoperto di non saperne nulla e ho scoperto le cose fantastiche meravigliose profonde interessantissime e vi devo dare una brutta notizia cari produttori di olio o comunque persone che siete all'interno della della filiera dell'olio extravergine oliva vi do la brutta notizia che fate non voi singolarmente ma in generale fate un pessimo lavoro un pessimo lavoro perché capite bene che questo litro di olio per la macchina costa 17 euro questo litro di olio extravergine oliva comprato al supermercato costa 5 euro signori olio per la macchina extravergine oliva questo costa 17 euro questo 5 ma sai sapete perché voi fate un pessimo lavoro ribadisco non voi sicuramente la categoria perché non perché questo costa di più ma perché chiunque di noi che possiede una macchina non tollererebbe mai di mettere nella propria macchina un olio da 5 euro se voi andate a qualsiasi automobilista e gli dite c'è questo olio che è questo 17 ma se voi te ne do uno da 5 per la macchina per l'automobile non accetta lui vuole questo olio qua anzi forse vuole l'olio da 25 da 30 da 40 perché la macchina nella macchina più importante che noi abbiamo che siamo noi invece l'immagine che se ne ha è di che noi tolleriamo di avere un olio extra virgin olive da 5 euro io non mi intendo di processi industriali eccetera eccetera ma probabilmente 5 euro qua costa la bottiglia il tappo l'etichetta la spedizione cioè il dentro è gratis perché solo spedirlo pubblicizzarlo lo scontrino eh no le tasse le accise che ne so e appunto l'etichetta cioè quello che stiamo vendendo non è quello che c'è dentro mentre qui noi siamo consapevoli che quello che ci vendono è l'olio per la macchina allora io ho approfondito ho letto dei libri grazie ad Aldo sull'olio e sono stati è stata una scoperta meravigliosa vi dico una cosa che forse detta a voi eh suona strano ma bella voglio dire io che non centro nulla e mi occupo solo di comunicazione l'olio è una cosa importantissima è importantissima è nella storia dell'umanità ho scoperto che tutte le religioni all'interno della loro storia parlano di olio le persone che eh spirano l'ultimo respiro di vita vengono eh omaggiate da l'estrema unzione a Pasqua si va in giro con la la moscello di olivo e ma in tutte le religioni monoteiste l'ebraica e la musulmana l'olio è una parte centrale fondamentale quindi quello che io sono qua a dirvi oggi e ve lo dico un grande passione sentimento e ne ho preso con sepovolezza in questo in questo questi mesi che ho approfondito l'olio l'olio e mi fa piacere che è stato detto prima da chi mi ha preceduto l'olio è una medicina smettete di venderlo come un alimento io quando vedo le bottiglie con il ramoscello d'olivo basta datemi retta basta pensate agli shampoo gli shampoo forse negli anni 70 mettevano sull'etichetta uno che faceva così con le mani nei capelli giusto? adesso lo shampoo come è venduto? come una medicina come qualcosa che è curativo nessuno dice che lo shampoo dice ah fai tanta schiuma e ti profuma la testa no cosa dicono? che ti crescono i capelli che dà nutrimento ai capelli lo shampoo io penso che la maggior parte delle persone pensano che sia più curativo uno shampoo rispetto dell'olio extravergine d'oliva che è vero il contrario perché chi se ne frega dello shampoo penso che si possa mettere il coso per per le piatti forse andrebbe più o meno ben uguale mentre invece l'olio extravergine d'oliva è fondamentale è importante quindi quello che io voglio dirvi di approcciare a livello di comunicazione pubblicitaria in generale comunicazione di etichette di bottiglie pensando pensando che avete qualcosa che cura che fa bene smettetela di mettere olive ramoscelli d'olivo bottiglie verdi pensate di vendere una roba che fa bene contro l'infarto una pastiglia per l'infarto la pastiglia per l'infarto che uno compra in farmacia non è che sull'etichetta c'è uno che fa sto per avere l'infarto sto male no in Bodoni c'è scritto heart attack e tu vai lì lo compri e ti salva l'infarto togliete datemi retta ogni componente estetica ogni componente romantica del fatto capisco che voi avete la vostra terra vi commuove la vostra terra vi commuove l'olivo ma sapete cosa di questa cosa qua non gliene frega niente a nessuno non gliene frega niente a nessuno del vostro appezzamento che era del vostro bisnonno in Toscana e sentite la terra è tanto meravigliosa perché vi ricordo vostro nonno che lì camminava cento anni fa di questa roba qua non gliene frega niente a nessuno togliete ogni romanticismo togliete ogni estetica eliminate le olive dalla vostra testa eliminate i bellissimi albero di olivo alla vostra testa pensate che state vendendo qualcosa che cura e che deve essere venduto giustamente anche questo mi fa piacere che prima è stato detto che deve essere venduto a un prezzo esorbitante perché quello che c'ha la macchina dato che teme che l'olio da 5 euro fonda la macchina non lo vuole l'olio da 5 euro ma se tu pensi che questo qua vale così come quello da 50 euro prendi quello da 5 se voi vi lamentate del prezzo basso al cui vendete il vostro olio vi do una notizia l'avete scelto voi tutti pensano tutti pensano che sia il cliente a scegliere il fornitore è esattamente il contrario è il fornitore quello che produce una certa cosa può essere un computer prima è stato citato Steve Jobs Steve Jobs ha lui scelto i propri clienti i clienti Mac sono i migliori clienti di computer del mondo e non ha parlato Steve Jobs fin dall'inizio di potenza di megahertz di questo quell'altro cosa ha detto Steve Jobs think different pensa diverso cioè ha parlato di qualcosa che è un concetto ideologico e lo stesso il concetto ideologico secondo il mio modesto parere che deve passare attraverso l'olio estravergine di oliva di grande qualità è che è curativo voi e io l'ho provati e qua davanti c'è la prova provata fate i migliori oli al mondo voi fate i migliori oli al mondo comunicateli e vendeteli come giusto che sia grazie grazie fantastico vi libero qua del mio di pevolata grazie settimio credo che laurea semplicitas come dicevano i latini qua ha colto l'essenza oltretutto lo metto in mezzo oltretutto settimio è andato diretto al cuore di quello che il nostro cervello recepisce quando ha detto togliete tutti i romanticismi ha detto indirettamente quello che la scienza ha dimostrato negli ultimi 15-20 anni per quanto è lo studio della comunicazione e con le neuroscienze è stato dimostrato quello che lui ha detto tutti i romanticismi non interessano noi ragioniamo l'85% delle decisioni che prendiamo ogni giorno su qualunque argomento della nostra vita Harvard Business Review è preso col cervello rettile messaggi semplici diretti come quello delle due bottiglie che vi ha dato quello ve lo ricorderete finché campate diretto al cervello rettile tutto il resto noi pensiamo di essere animali razionali pensanti e riflessivi ma non è così ci sono fiorfiore di studi negli ultimi 20 anni che dimostrano esattamente il contrario quindi andiamo in questa direzione grazie grazie allora adesso prima di andare a pranzo e poi oggi pomeriggio recarci al Parco Incessa Antionietto per la consegna vera dei premi di questo concorso e vorrei ancora parlare qualche minuto delle dinamiche di quest'anno del concorso allora abbiamo avuto una delle giurie più qualificate di sempre sedici assaggiatori che provengono da vari da sei paesi del mondo e da sette paesi del mondo quindi Italia Spagna Grecia Tunisia Turchia Israele e Cile tra l'altro ho sbagliato la la bandiera scusami ok 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 scusate si vede che è stata sbagliata la bandiera in ogni caso i giudici sono dalla Tunisia e dalla Turchia e anche dal Cile e abbiamo oggi l'onore di avere qua la giudice Cilena che ci ha fatto l'onore di essere qua Denise Langevin grazie di essere qua eh durante il concorso possiamo andare questi sono i nomi e credo che senza tema di smentita è una delle giurie più titolate al mondo perché su sedici eh assaggiatori tutti i professionisti tutti operatori del settore abbiamo ben quattordici capi panel tra operativi e diplomati cosa che è abbastanza unica nel paroama mondiale direi andiamo avanti abbiamo avuto quest'anno centosessanta campioni provenienti da quattordici paesi del mondo e eh siamo stati onorati di avere per la prima volta rappresentanti dall'Algeria e rappresentanti dall'Albania quindi contiamo che nei prossimi anni cresceranno ancora andiamo pure avanti come funziona il concorso perché comunque bisogna anche un attimo spiegarlo non ci sono molti concorsi oggi nel mondo sono molte decine i concorsi internazionali nel mondo e noi abbiamo eh un sistema un po' particolare perché gli oli che arrivano a prendere i premi vengono assaggiati tre volte dalla giuria una prima volta in cui vengono classificati in base alle categorie del fruttato leggero o medio intenso in modo che ognuno concorra con quelli del suo peso ok e poi un secondo giorno in cui tutti i giudici danno valutano gli oli eh e danno uno score danno una votazione da questa votazione viene fuori la prima classifica generale in cui tutti gli oli che hanno superato la votazione di sessantacinque e arrivano fino a settantacinque centesimi ottengono un riconoscimento di buona qualità silver argento selezione argento tutti gli oli che ottengono una votazione sopra i settantacinque centesimi dalla giuria dalla mediana della giuria ottengono una valutazione di alta qualità selezione oro all'interno di questo gruppo vengono scelti i dieci e in questo caso quest'anno dodici oli con le votazioni più elevate e si fa una finale per mettendoli tutti insieme a confronto quindi i giudici assaggiano tutti insieme i primi dieci fruttati leggeri i primi dieci in questo caso dodici fruttati medi e i primi dodici fruttati intensi in modo che il confronto sia molto serrato e sia equo perché se noi assaggiamo 170 oli nel giro di tre giorni e capita un po' come una volta dicevo a mia figlia se vuoi andare vuoi fare bella figura vuoi essere la ragazza più bella del reame basta che vai in discoteca con due amiche che sono così così e tu farei un figurone lo stesso capita quando assaggiamo gli oli se noi assaggiamo due oli che sono così così e dopo arriva un olio che è buono magari gli diamo 90 è un effetto di contrasto per il nostro cervello ma se noi abbiamo 10 o 12 oli che hanno preso tutti 85 87 88 a quel punto il confronto è serio è reale quello che verrà fuori come il vincitore di quell'anno è veramente il migliore perché si è confrontato direttamente con i pesi massimi di quell'anno questo è il modo con cui procediamo in questo concorso questi sono i diplomi che riceveranno tutti i partecipanti tutti quelli che hanno raggiunto lo score perché poi ci sono anche quelli che non raggiungono lo score a cui mandiamo un feedback con la spider map del risultato della giuria e i suggerimenti secondo la nostra giuria delle cose che si possono migliorare per raggiungere il livello di qualità che hanno raggiunto gli oli che hanno ottenuto questo tipo di risultati quali sono le categorie che abbiamo in questo concorso allora noi diamo dei premi abbiamo siccome io arrivo dalla Liguria e quindi sono legato comunque al territorio della Liguria e quando sei anni nel 2016 ho pensato dopo 15 anni che mi occupavo di olio ho detto ma la Liguria è una regione dove si produce poco olio ma se ne vende tantissimo è una regione che ha portato l'olio da olive nel mondo ho detto come mai non c'è un concorso che sia degno di tale nome perché avevo partecipato a vari concorsi ma erano tutti concorsi diciamo limitati e negli altri posti si facevano concorsi internazionali allora ho detto ho fatto quello che ha detto Pino ho gettato il cuore oltre l'ostacolo ci ho messo tantissimo lavoro tantissima passione tantissimo impegno e ho detto organizziamo un concorso contro tutto quello che si poteva dire no ma non farlo perché ma guarda ci sono già gli altri questo quell'altro su e io ho detto ma se lo fa qualcun altro lo posso fare anch'io forse con tanto impegno e piano piano stiamo crescendo e ottenendo i risultati che io avevo dichiarato a mia moglie perché all'inizio gli dissi cominciamo da Sanremo che è conosciuta in tutto il mondo ma io voglio arrivare a Monte Carlo ma arrivare a Monte Carlo vuol dire avere dei budget vuol dire alzare il livello e non potevo farlo subito perché non avevo dietro una fondazione come qualche altro concorso che magari ha la fondazione Veranelli dietro che gli dà soldi eccetera io partivo da zero e ho dovuto fare tutto passo per passo ma siamo qua oggi quindi abbiamo i premi per i due categorie dei Liguri poi scusa puoi tornare indietro per cortesia se è possibile che sono nazionali e poi abbiamo il premio dei migliori oli dei comuni che sono prodotti nei comuni delle bandiere arancioni perché abbiamo stipulato un accordo con l'associazione dei comuni bandiere arancione l'anno scorso grazie a Fulvio che ha creduto nel progetto quest'anno l'abbiamo rinnovato e sicuramente lo rinnoveremo anche per il futuro e quindi abbiamo dedicato un premio a queste a questa categoria e lo stesso abbiamo fatto un accordo grazie al comune di Monaco e a Fulvio con i comuni che sono siti storici della famiglia Grimaldi e anche lì abbiamo un premio dedicato andiamo avanti ok grazie questi sono invece i premi internazionali abbiamo un premio per la categoria dei fruttati leggeri un premio per primo secondo e terzo come alle Olimpiadi in una gara deve essere fatta come alle Olimpiadi e ai campionati mondiali ci sono tanti che partecipano da tutto il mondo fanno i tempi arrivano in finale in dieci o in dodici e lì si decide chi è primo chi è secondo e terzo e questo facciamo i fruttati medi gli intensi poi ci sono i monocultivar i blend gli oli a denominazione di origine protetta e gli organici e poi abbiamo col programmatore che ci ha fatto il programma abbiamo pensato di creare anche una categoria sui generis la categoria overall che è strana ma è interessante perché questo diamo un premio agli oli ai tre oli che hanno messo più d'accordo la giuria ovvero quando i 16 giudici fanno la finale dei fruttati leggeri se la stragrande maggioranza dei giudici dice quest'olio va collocato al primo posto qualcun altro lo mette a seconda e qualcun altro lo mette al terzo e non c'è nessuno che lo mette al quinto al sesto vuol dire che la giuria è uniformemente d'accordo nel dire quest'olio merita di stare là in cima e quindi la categoria overall significa che ha avuto una valutazione molto omogenea dei giurati nel collocarlo in cima e quindi questi sono i tre oli che prendono il premio overall andiamo pure avanti quest'anno abbiamo anche aggiunto qualcosa perché gli altri concorsi lo facevano da tempo io avevo paura volevo prima piano piano crescere nel settore degli oli e abbiamo introdotto e credo che sia interessante perché sono mercati interessanti non a caso Pino ha detto fatemi l'olio al peperoncino per i colombiani e qua abbiamo degli oli al peperoncino che sono semplicemente incredibili e abbiamo degli oli aromatizzati eccezionali abbiamo introdotto la categoria degli oli aromatizzati e quest'anno grazie alla collaborazione con settimio abbiamo anche introdotto una cosa che altri concorsi già facevano per il miglior packaging e settimio è stato ancora più preciso perché ha attribuito tre premi per la migliore grafica tre premi per la migliore bottiglia e tre premi per la migliore originalità che sono tutti e tre aspetti della comunicazione dell'olio andiamo avanti vediamo questi che ha perché non sono presenti non saranno presenti quindi li svegliamo adesso per quanto riguarda la migliore grafica il primo premio è andato in Marocco a Xeer Factory Norfes il secondo ha un produttore che ha base in Germania e si fa fare gli oli prevalentemente in Grecia Jordan Olive Oil che ha preso il secondo premio col suo olio Bambazza e il terzo ha un frantoio italiano frantoio anteata con l'olio da noi a voi poi abbiamo il premio per le migliori bottiglie primo premio Yamamoto Club dal Giappone quest'olio qua non solo ha un bellissimo una bellissima presentazione una bellissima comunicazione pensate che la bottiglia è da 100 ml non è che cioè si vende come un profumo il concetto che ha detto Settimio è perfettamente applicato in questo caso non fanno la bottiglia da mezzo litro questi signori qua 90 euro una bottiglia da 100 ml sul mercato giapponese costa e la cosa interessante è che il contenuto corrisponde alla comunicazione perché l'olio è eccezionale tre anni fa vinse il primo premio assoluto nei fruttati medi quest'olio battendo tutti gli italiani tutti i greci tutti gli spagnoli che è una cosa assolutamente controintuitiva ma è successo e sono venuti dal Giappone a prendere il primo premio secondo premio ottenuta Maria Amado dalla Toscana una bottiglia veramente innovativa anche questa perché col marchio in metallo sopra se non sbaglio la prendono in Argentina si fanno fare questa bottiglia non proprio dietro l'angolo ma hanno voluto qualcosa di esclusivo e sono riusciti a farlo terzo premio questa piccola azienda dalla Sicilia azienda agricola di Bonanno Antonio che ha una piccola bottiglia ma di nuovo esprime il concetto sto vendendo qualcosa di speciale di unico una piccolissima bottiglia da 250 ml che notata lì in mezzo sembra Davide contro tanti Golia ma si fa notare ed è questo quello che conta devo farmi notare e come faccio a farmi notare in mezzo ad altre mille bottiglie facendo qualcosa di diverso e lui ci è riuscito complimenti i migliori oli per l'originalità beh qua settimio ha scelto una quaterna spettacolare perché io quando iniziai questo percorso litigai con mio padre perché volevo una bottiglia blu e questi signori la fanno sia rossa che blu quindi non ero poi così pazzo a litigare con mio padre dicendo ma secondo me ci vuole una bottiglia blu non la fa nessuno benissimo si fa noi perché così si farà notare questi signori hanno questa meravigliosa bottiglia l'almazara della subetica in Spagna è una cooperativa che da sola produce quanto produce il nostro paese 300.000 tonnellate fa grandissimi oli gli oli più premiati al mondo degli ultimi anni sono dell'almazara della subetica e questo è il primo premio secondo premio un'altra azienda spagnola un'altra cooperativa San Amador con questo tuccioliva bianco stupendo bellissimo originale semplice di nuovo non ci sono tanti fronzoli semplice ma elegante terzo premio a pari merito un'azienda italiana dalla Puglia le tre colonne di Salvatore Stallone e un'azienda greca con una bottiglia davvero originale molto bella ma anche in questo caso bianca e semplice guardate com'è elegante e semplice non ci sono tanti fronzoli non servono tante cose per comunicare che si è unici cavallare estate dalla Grecia andiamo pure avanti vai pure avanti qua qua ci sono i finalisti oggi pomeriggio non avremo tempo di vederli qua ci sono i dieci finalisti dei fruttati leggeri da cui sono scaturiti primo, secondo e terzo vediamo i fruttati medi velocemente qua sono 12 e poi abbiamo i fruttati intensi che sono 12 da vari soprattutto questa è una finale molto difficile da vincere perché abbiamo Marocco Spagna Italia e tra gli spagnoli ci sono come dicevo le aziende più premiate al mondo perché ci sono due siti internet non so se li conoscete che fanno il ranking delle aziende più premiate al mondo ovvero prendono i dati dai principali concorsi del mondo e vanno a vedere chi ha ottenuto dei riconoscimenti e fanno la classifica degli oli più premiati al mondo fate conto che gli spagnoli che sono qua sono sempre tra i due o tre più premiati al mondo per cui vincere questa categoria qua è veramente difficile bisogna veramente fare qualcosa fuori dalle righe e molto spesso gli italiani ci riescono ok andiamo avanti possiamo tornare indietro un attimo su no vabbè lascia pure sui giurati puoi tornare indietro un po' per favore vediamo ok adesso prima di andare a pranzo vorrei dare un riconoscimento ai giudici che sono presenti chiaramente un tributo a tutti quelli che ci hanno dato una mano perché poi questi sono tutti amici e ci stanno aiutando come ci hanno aiutato le aziende ci stanno aiutando dal 2016 queste persone qua perché Denise è venuta tre volte in Italia dal Cile a sue spese perché non avevo i soldi per pagare il biglietto aereo a un giudice che arrivava dal Cile e Denise è venuta tre volte qua a fare il giurato prima del Covid e questo per me è un grande aiuto e oggi mi aiuta mandando anche delle aziende di altri paesi qua senza chiedere nulla quindi questo per me è un grande aiuto non è solo un segno di amicizia ma è un grande aiuto e quindi vorrei anzitutto cominciare da lei la invito a venire sul palco e gli diamo il riconoscimento per il contributo alla giuria grazie grazie davvero Denise grazie grazie perché è una signora eccezionale non è solo dolcissima è una grande esperta perché nel suo paese lei importa fa consulenza eccetera quindi parliamo e va in giuria in tutto il mondo nei concorsi a giudicare gli oli con grande professionalità e grande serietà professionale grazie grazie applausi 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 ah ok va bene allora lasciamo bianco o metti o o se no mettiamo questo ok grazie poi vorrei ringraziare una persona speciale che ho conosciuto grazie ad Alissa no veramente l'ho conosciuto dodici anni fa perché abbiamo fatto il corso da capi panel insieme Alissa poi me l'ha fatto ritrovare l'anno scorso mentre facevamo un corso di formazione insieme quindi vorrei chiamare sul palco Aleandro Tanelli che già già mi era risultato simpatico quando facemmo il corso da capi panel insieme a Firenze e dicevo ma questo mi sembra uno di quelli che la salunga sul mondo dell'olio anche se ha un profilo bassissimo ma il mio compagno è di corso di banco grandioso grazie Aleandro grazie Aleandro se ti farà piacere continuerai a essere con noi in giuria per i prossimi n anni finché ce la faremo ad andare avanti poi beh poi un riconoscimento alla giuria pensate che i primi due anni veniva ad aiutare soltanto e diceva no no ma io non voglio ed era nel panel questa persona era nel panel dell'Onao prima che ci arrivassi io quindi bravissimo assaggiatore grandissimo amico e grandissimo aiutante perché ci dà una mano incredibile a organizzare questa cosa e ogni anno ci mette cuore e passione è Marco Gandolfi che tra l'altro tra l'altro i primi anni ci aiutava e da dietro le quinte diceva no ma io perché sono tutti i capi panel quest'anno ha fatto il corso da capo panel gli ho detto guarda che in Sicilia fanno il corso da capo panel siccome se lo merita perché è bravissimo adesso non avrà neanche più quella di scusante per essere con noi molto bene e poi ha un giudice speciale eccezionale scusate ma ah sì scusate sì e vorrei dare anche anche se l'ha fatto diversamente da noi ma il giudizio sulla comunicazione è importantissimo per cui vorrei chiamare Settimio qua se posso permettermi questo è un giudice unico che ci ha onorato della sua presenza per cui veramente grazie davvero grazie a voi grazie e adesso prima di andare a pranzo un'ultima cosa sapete che alla alla notte degli Oscar a Los Angeles c'è uno dei c'è uno dei premi più importanti in assoluto credo che non tutti non so se tutti gli anni si conferisce ma quando si conferisce c'è veramente un premio importantissimo ed è il premio alla carriera perché ci sono persone che magari sono 5 10 15 anni che sono appassionate di olio e fanno producono olio divulgano l'olio eccetera ma ci sono persone come nel mondo del cinema anche nel mondo dell'olio che hanno dedicato la loro vita a questo prodotto la loro vita intera e hanno visto tutta l'evoluzione come Pino ha raccontato prima di quello che era produrre l'olio come si faceva 20 30 40 anni fa e quello che sta diventando oggi per cui io credo che oggi sia giusto dare due riconoscimenti come alla notte degli Oscar alla carriera prima di tutto ad Alissa Mattei che chiamerei qua sul palco scusate scusami se ti ho fatto fare due sgradini ma credo che ne valga la pena perché io dico sempre nonostante il carattere il confronto è sempre importante nella vita ma l'altra cosa e l'ho detto pubblicamente mia moglie e mia testimone ho detto più di una volta perché non l'ho conosciuta 20 anni fa questa signora forse mi sarei arrabbiato un po' di più ma avrei imparato tante di quelle cose sull'olio che neanche me le sogno quindi grazie Alissa no grazie a tutti grazie Alissa e questa ah ecco sì certo perché i veri in questa sala con tutto il rispetto non vogliatemene produttori perché fate oli eccezionali ma i veri masters of olivoyl di oggi per me sono queste due persone qua una è Alissa che non so quanti ricercatori in Italia hanno fatto le pubblicazioni che ha fatto lei non so quanti ricercatori in Italia sono stati pionieristici come diceva perché l'olio denocciolato non è che qualcuno un giorno qualcuna un giorno ha avuto questa idea è andato fino in Sud America per fare i primi denocciolati è dal 74 che sono in questo mondo quindi una vita davvero ma questo infatti secondo me era dovuto questo assolutamente un amore una passione quello che avete raccontato grazie davvero grazie davvero se vuoi dire qualcosa il palco è tuo no io semplicemente ti ringrazio perché è il primo premio che ho la carriera perché nessuno mi ha mai premiato però va bene così sono molto felice perché aver incontrato Aldo lui forse è stato fortunato di aver incontrato me però io sono stata fortunata a incontrare Aldo perché insieme stiamo facendo veramente delle belle cose non solo in Italia ma anche all'estero perché io sono presidente dell'associazione Noil certo che diciamo stiamo collaborando ormai da tanti anni che ci sta aiutando da cinque anni certo e quello che facciamo è portare la cultura dell'olio e questo secondo me è trasferire quello che sappiamo alla mia età credo che si debba fare questo trasferire ma non solamente le nozioni non si tratta di nozioni si tratta della passione dell'amore e di capire quali sono i punti anche nel packaging perché no io collaboro ancora faccio libera professione collaboro con molte aziende e a tutti ai giovani cerco di trasferire questa energia anche per la ricerca perché senza ricerca non si va avanti e poi per la passione e l'amore perché senza quelli nella vita non si va da nessuna parte grazie Alissa grazie ah scusa e poi vorrei chiamare Pino Cipolla che veramente anche lui ha dedicato la vita a questo prodotto l'ha portato in tutto il mondo se posso vieni Pino racconto quest'aneddoto visto che l'hai citato qualche anno fa ero a un corso di formazione e uno dei uno dei partecipanti al corso mi disse che aveva fatto era stato in Iran e aveva visto l'olio di una grande azienda italiana in Iran dice e questo ha detto ma come Bip hanno fatto questi a vendere l'olio in Iran io gli ho detto ma se vuoi ti presento la persona che ce l'ha portato l'olio di questa azienda in Iran ed era ovviamente Pino quindi con un grandissimo con grandissimo veramente piacere credo che sia veramente un Oscar a una vita dedicata a questo prodotto a portarlo a farlo conoscere esattamente come ha fatto Alissa due aspetti diversi ma lo scopo è quello è unico ed è lo stesso di tutti noi dico solo una cosa perché sono un po' emozionato perché era la prima volta volevo dire che non sono andato io verso l'olio d'oliva lo raccontavo ieri sera le altre è stato l'olio d'oliva venise da me perché quando ero bambino mio padre che ho perso molto molto presto mi portava in raffineria e l'odore della raffineria dell'olio è sempre stata una cosa che mi è entrata nel naso e non è più uscita poi la mia generazione doveva fare lavori molto umili anche da ragazzi si lavorava io sono d'Imperia il lavoro che dovevamo fare era raccogliere le olive e raccogliere le olive come facevano i bambini proprio da bambini e quindi a portare l'affrontoio aspettare che morisse aspettare portare l'olio travasarlo cambiare il damigiano io sono è l'olio è l'olio che è venuto da me e ho cercato di essere un buon un buon servant come dicono i francesi grazie e lo sei stato grazie grazie davvero allora direi che possiamo andare a pranzo ci rivediamo alle tre e mezza ci vediamo in sala da pranzo tutti insieme ovviamente ci rivediamo poi alle tre e mezza puntuali al parque Princess Antoniette si può raggiungere a piedi perché ha voglia di fare una passeggiata ma ci sarà molto caldo fuori o se no credo che ci siano i mezzi pubblici si possono prendere o se no c'è si può andare in macchina c'è un parcheggio subito dopo il park c'è una rotonda 200 metri dopo l'ingresso alto del parco e c'è un parcheggio lì dove si può parcheggiare per chi vuole andare in macchina e daremo lì spazio a chi produce l'olio e daremo i premi di questo sesto Masters of Volleyball grazie a tutti applausi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti